73-74% del bilancio regionale. I due terzi del bilancio regionale. Davanti a queste cifre si spiega quale sia l'impatto della sanità. Presentando il rendiconto 2009, il governatore Spacca incassa la medaglia d'argento sulla sanità. Il secondo posto in Italia dopo la Lombardia, quanto a conti un avanzo di 17 milioni di euro e novità le prestazioni. Ora, giunge Spacca, arriva alla parte più difficile. In serata, Consiglio dei Ministri per le Marche si teme un taglio sulla sanità, nonostante le smentite di Berlusconi tra i 60 e gli 80 milioni di euro. Spacca, ormai siamo bravi a fare gli equilibristi, ma sarà ancora più dura. Oltre alla sanità, il governatore parla di miglioramento del saldo finanziario da meno 138 a meno 119. Insomma, meno tasse e più entrate con la caccia agli evasori. Uno è l'abbassamento della pressione fiscale, che nel 2009 ha riguardato soprattutto l'IRAP per le imprese e ha mantenuto fuori dall'IRPEF il 70% dei cittadini delle Marche. E soprattutto la lotta all'evasione, che in questi ultimi 4 anni ci ha portato oltre 100 milioni di euro. E se in tema di risorse Spacca e Marcolini contano di recuperare anche i fondi investiti nella Lehman, poi fallita, La battaglia è sulla sanità. Giovanni Zinni, popolo delle libertà, ha presentato un'interrogazione in consiglio regionale denunciando una presunta incompatibilità del nuovo direttore generale dell'Asur, Piero Ciccarelli, dipendente della sanità e direttore generale. Spacca è stato già direttore di zona macerata, comunque attendiamo il parere dell'ufficio legale della regione. Zinni incalza chiedendo di bloccare le terne con i nomi dei prossimi direttori di zona, ma la giunta vuole chiudere facendo votare innanzitutto il Dipartimento, il nuovo cervellone della sanità marchigiana. Le responsabilità saranno definite completamente prima dell'estate.